Si abbassano le luci sulla platea, applausi e un attimo dopo si riaccende il palcoscenico del Teatro Forma. Tanti gli invitati per la serata d'onore che ha aperto il sipario della stagione concertistica 2024-2025, di questo punto di riferimento culturale per la città di Bari, tornato in famiglia Telebari. Sul palco si sono avvicendati diversi ospiti, moderati dalla padrona di casa Maddalena Mazzitelli e dal giornalista Livio Costarella. Dopo i saluti del presidente Michele Emiliano e del sindaco Antonio De Caro, che hanno ricordato più di un aneddoto legato al Forma, poi è toccata a Piero Ricci, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Puglia, a Renato Ciardo, che ha divertito con la sagacia che lo contraddistingue il pubblico in sala, e ad Andrea Ravallese, che ha raccontato la sua avventura di conduttore inviato per Telebari al Festival di Sanremo. Il tutto è stato intervallato dalle splendide performance di Kelly Joyce e da Saji Ray Acoustic Trio, scelto come direttore artistico del Forma Carlo Gallo, che ha rivelato nel corso della serata gli artisti pronti a solcare questo palco fino al prossimo anno. Si parte l'8 marzo con il concerto di Ron, già sold out, e i concerti di Chiara Civello, il 19 aprile, e Simona Molinari, il 17 maggio. Spiccano nella rassegna i grandi nomi di Antonella Ruggero e Sergio Cammariere, insomma un cartellone di appuntamenti che non lascia nulla al caso e pensa anche al divertimento dei più piccoli.